Uomini e donne anticipazioni, Paolo e nuovo tronista Nicolò, prime scintille Uomini e donne, Nicolò Ragnolo dice no a Sabrina, ecco perché. Nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne. La puntata è stata quasi totalmente dedicata a Sabrina Ghio e alla sua scelta. La tronista ha infatti deciso di concludere il suo percorso. . Si parte dai video dei migliori momenti trascorsi con Nicolò Fabri, per poi passare a Ragnolo. Quest'ultimo si era eliminato, ma la Ghio gli ha fatto recapitare un video messaggio con cui lo ha invitato a venire in studio nel corso dell'ultima puntata. . Oggi, il corteggiatore decide di entrare in studio. Inoltre, Sabrina ha trascorso un'intera giornata insieme all'altro ragazzo. . I due sono stati molto bene e lei rivela di volersi buttare a capo fitto e di non preoccuparsi più del parere altrui. . In studio, si commenta l'uscita e seppur sembra che stiano molto bene insieme, Gianni e altri credono che con l'altro Nicolò c'era molta più emozione. . . Si passa poi sulle poltrone rosse al centro dello studio. . La tronista chiama per primo Fabri a cui comunica con grande difficoltà di non essere lui la scelta. . Il ragazzo comprende, ringrazia e balla per l'ultima volta con la donna. . Entra Ragnolo e Sabrina gli rivela di essere proprio lui la sua scelta, nonostante sappia già di ricevere un no. . La ragazza tiene però a chiarire di averlo scelto perché, per la prima volta, vuole fare una cosa per se stessa e non per gli altri. . Nicolò risponde di no e spiega di non aver provato quel qualcosa in più che possa farlo uscire dalla trasmissione insieme a lei. . La Gio comprende benissimo le motivazioni del corteggiatore che, inoltre, ci tiene a sottolineare il fatto di apprezzarla molto come persona. . Anticipazioni uomini e donne, Paolo in confusione, lite con Nicolò Brigante, prime esterne per i nuovi tronisti. . Paolo Crivellini inizia ad essere un po' confuso. . Dopo la lite con Angela, il tronista ha cercato un confronto con la ragazza. . Lei non è voluta uscire in esterna dopo ciò che è accaduto nella precedente registrazione e nel frattempo, Crivellin ha deciso di portare fuori Marianna, una delle ragazze nuove. . . In studio tutti, o quasi, attaccato il tronista. . Secondo Nicolò Brigante, lex tentatore è un po' troppo pesante e non fa altro che allontanare tutte le donne. . . Prime esterne di conoscenza per Brigante, Sara Affifella e Niloufar. . Nicolò incontra tre ragazze per capire chi portare in esterna, ma lui decide di non portare nessuna, mentre esce con Virginia. . . Le due nuove troniste, invece, una con Giordano e laltra con Luigi. . 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 Grazie a tutti.